La sospensione del vaccino AstraZeneca non deve allarmarci, anzi occorre prudenza per capire con trasparenza cosa sia successo e ripartire con tranquillità nella vaccinazione. A spiegare cosa è accaduto con i lotti AstraZeneca è il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico di Roma. La decisione è una decisione da protocollo, quando c'è un evento avverso grave, ci sono dei decessi, bene il lotto o i lotti implicati nella vaccinazione in questo caso devono essere sospesi. Attenzione, non blocchiati, sospesi temporaneamente. Perché dico temporaneamente sospesi? Perché se anche c'è l'idea di un nesso, di un link temporale, non è detto che sia un nesso di causa. Cioè non è detto che il vaccino abbia provocato l'evento avverso. Diciamo che il nesso temporale c'è perché dopo la vaccinazione è avvenuto l'evento avverso, ma non è detto che la vaccinazione abbia causato l'evento avverso. Quindi da protocollo, ma proprio per preservare la salute delle persone si fa questa sospensione perché si va ad indagare ulteriormente in maniera molto precisa e trasparente, questo è importante, trasparente, su ciò che accade. Chi ha già fatto la prima dose di AstraZeneca deve preoccuparsi? Le persone che le hanno già fatto sarebbero già in corso degli eventi avversi, quindi è passato tempo, magari l'evento avverso sarebbe già accaduto. Quindi già lì c'è una margine di tranquillità. Per quanto riguarda le vaccinazioni future, se l'EMA le sdogana non penso che siano così impreparati e così improvvisati da fare una cosa che non deve essere fatta. Quindi io direi stiamo sereni e tranquilli. La vaccinazione con qualunque vaccino, adesso stiamo parlando di AstraZeneca, ma diciamo la vaccinazione in genere ha una grande peculiarità, quella di togliere i sintomi della malattia, di non far andare la gente in ospedale e quindi non si prende la polmonite. Questo significa che non si muore. Una volta vaccinati siamo tranquilli. Per cui comunque sia, se l'EMA va a sdoganare il vaccino, bisogna ricominciare la vaccinazione. E in questo caso l'unico danno che abbiamo è il ritardo vaccinale. Siamo già in ritardo di un mese, siamo già in ritardo di 6-7 mesi rispetto agli Stati Uniti. Siamo in ritardo, ma in Europa in generale. Quindi dovremmo correre di più. Diciamo che per arrivare al traguardo nei tempi giusti dovremmo accelerare e correre, visto che perdiamo anche questi giorni. Ma è giusto perderli, eh? Io lo ripeto, è giusto che tutti noi stiamo tranquilli e tutti noi, come dire, abbiamo la possibilità di capire che se c'è un evento avverso, c'è qualcuno, quindi un'agenzia regolatrice, AIFA o EMA che sia, che ci protegge da questo fatto. Gli effetti avversi individuati in alcuni italiani possono essere legati a un sistema immunitario già sollecitato dal virus, magari asintomatico, e a una vaccinazione precoce. Converrebbe fare dunque prima un serologico? Non è, come dire, consigliato da nessuno. Non lo dice nessuno. Nessuno chiede di farlo. Però, ovviamente, se io non sono sicuro, magari, di aver avuto il Covid in maniera asintomatica, io questo non posso saperlo, beh, vabbè, allora facciamolo un sierologico per vedere, per vedere le famose IgM e DGG, no? I due, diciamo, i due indicatori importanti, eh, che titolo hanno? Nel caso ci vacciniamo. E chi ha avuto Covid e lo sa, deve aspettare minimo tre mesi per poter fare la vaccinazione, proprio per evitare questo che lei sta dicendo. Quindi dai tre mesi in poi.